Sul ponte svento la bandiera bianca. Sono gli avversari già in smobilitazione, annichiliti dai numeri, atterriti dal senso di impotenza, che si prova al cospetto della capolista, che seppur ancora in rodaggio già ha fatto il vuoto e rischia di vincere il campionato con qualche mese d'anticipo. Insomma, mentre a Salerno ci si gode il primato e l'imbattibilità e al contempo ci si prepara a rafforzare ulteriormente la squadra, altrove si sbaracca. A Sora il tecnico Luiso si dimette mentre due giocatori chiedono e ottengono la recessione del contratto. A Bacoli vanno via ben nove titolari, fuga da Arzachena per quattro giocatori. La corazzata causa danni tutto intorno e della concorrenza restano solo i cocci. Per carità il campionato è ancora lungo, ma l'impressione, non nostra ma di tutti, è che Munar e compagni possano perderlo solo giocando a perdere e il calcio non è il 3-7. Alle viste c'è la Torres, altra nobile decaduta, oltre che squadra piuttosto tignosa soprattutto sul proprio campo. Per Perrone e i suoi la missione è vincere ancora per avvicinarsi a grandi passi alla Lega Pro e cominciare a pensare al futuro.